Eccoci qua, buongiorno a tutti, grazie per essere qui, molti colleghi sono collegati da remoto, ma io saluto anche quelli che sono venuti qua in presenza e molti colleghi dei conti nazionali che sono a seguire questa conferenza stampa, in cui presentiamo i conti economici nazionali con le nuove stime relative alla revisione ordinaria che si fa ogni 5 anni, la precedente del 2019, abbiamo visto che si è creata una discreta attesa attorno a questa conferenza stampa e a questo comunicato, perché ovviamente coincide con i giorni nei quali il Governo sta per chiudere e presentare al Parlamento il documento strutturale di bilancio e poi la successiva manovra. Dal nostro punto di vista è un appuntamento importante anche perché questa revisione ordinaria generale dei conti nazionali arriva dopo la precedente, dicevo, del 2019, tra le due è successo qualcosa di abbastanza clamoroso per l'economia e la società. Abbiamo avuto una maxirecessione, è seguita una improvvisa e violenta inflazione e quindi vedere da questa revisione che numeri raccontano quello che è successo in questo intervallo, in particolare nel triennio della ripresa dopo la recessione indotta dalla pandemia è particolarmente interessante dal punto di vista statistico, tra poco vedrete le novità non mancano. Io vi presento Giovanni Savio che è il collega direttore dei conti nazionali a cui ora darò la parola e che illustrerà i contenuti principali emersi da questo esercizio di revisione e dopo di che è possibile naturalmente fare tutte le domande che vorrete, ci sono le componenti del prodotto che raccontano la storia di come l'uscita dalla crisi è stata guidata, ci sono i riflessi, se qualche collega ha acceso il microfono da remoto è bene che lo spenga altrimenti sentiamo l'eco, ci sono i riflessi dicevo sugli aggregati di finanza pubblica che pure sono significativi, ma io mi fermo qui e do la parola a Giovanni per l'illustrazione. Grazie a tutti. Sì, grazie mille Davide, buongiorno, vedo che ci sono 20 persone collegate, qui un pochettino di meno, però comunque iniziamo con questi dati che come introduceva Davide sono attesi dal punto di vista economico e politico anche nel senso che da quando siamo usciti con questa forchetta sulla nuova stima del 2021 si è aperto tutto un diciamo così dibattito o sono state fatte delle ipotesi sul comportamento del 22 e del 23 che sono gli anni chiaramente più interessanti da un punto di vista economico e statistico anche. Eravamo qualche giorno fa usciti per la seconda volta, in realtà l'avevamo già fatto in occasione della prima revisione che c'era stata del 2021, con questa forchetta avevamo detto appunto che avremmo rivisto al rialzo il livello del PIL del 2021 che è l'anno di benchmark, fra poco vedremo effettivamente che cos'è che significa benchmark per noi e per voi essenzialmente. Eravamo usciti con questa forchetta 09, 1 e 2 come incremento nel livello del PIL del 2021 e se vedete dal comunicato stampa chiaramente stiamo all'interno di questa forchetta in quanto il livello del 2021 è stato rivisto di 20 miliardi più o meno e rappresenta il 1,1 per cento del livello del PIL appunto di quell'anno. Questa revisione generalmente viene chiamata straordinaria ma non è di fatto straordinaria perché ogni cinque anni Eurostat chiede a tutti i paesi dell'Unione, dell'EU27, di fare questa pulizia diciamo casalinga e di cercare di inglobare nei conti che vengono pubblicati da tutti gli stati membri miglioramenti, fonti nuove, classificazioni nuove e eventualmente di incorporare tutte quelle raccomandazioni che nel corso degli ultimi cinque anni fa Eurostat agli stati membri stessi. Oggi appunto diffondiamo, trovate essenzialmente nel comunicato stampa i dati 2021-2023 come solito però a partire dalle 10 trovate anche le basi di dati ricostruite a partire dal 1995. Quindi questa è una revisione essenzialmente straordinaria anche perché andiamo indietro nel tempo e questo livello più alto del 2021 viene essenzialmente traslato a tutti gli altri anni. Chiaramente l'impatto è più forte sugli ultimi anni ed è via via scema fino ad arrivare ad un livello del 1995 che può essere, diciamo, lievemente cambiato. Se torniamo un attimo sulla slide precedente, a seguire faremo con la solita tempistica dei comunicati stampa e poi pubblicheremo le serie trimestrali territoriali del sommerso e conti dei settori istituzionali che sono coerenti con questi nuovi dati annuali. Visto che la storia e il processo di queste revisioni non finisce mai, ci sarà a breve, nel senso che probabilmente molti di noi andranno per fortuna in pensione fino a quell'epoca, però anticipiamo che ci saranno delle revisioni più robuste, probabilmente dovute all'introduzione dei nuovi manuali SEC, il sistema europeo dei conti, e l'SNA che è il sistema dei conti delle Nazioni Unite. Questo con appuntamento, diciamo, almeno al 2027, nel 2025 verrà approvato l'SNA nuovo, nel 2027 il SEC e quindi generalmente danno un paio d'anni per allineare i conti. Qui c'è una definizione molto pittoresca, se volete, di che cos'è il benchmark. Questa parola, essenzialmente, nell'ultimo punto di questa prima slide, è un censimento essenzialmente economico dove si tiene conto di tutta l'informazione disponibile, censimenti come prima cosa, sapete che i censimenti, almeno fino a qualche tempo fa, venivano fatti ogni 10 anni, c'è il censimento della popolazione, il censimento delle abitazioni, il censimento del no profit, dell'agricoltura, ci sono dei cambiamenti nelle classificazioni e generalmente nelle fonti e questa è un po' l'occasione per riordinare casa, per fare un po' cambio di biancheria. Queste sono le principali caute di questa revisione, censimenti, indagini e fonti, questo sugli ammortamenti, essenzialmente l'introduzione della nuova COICOP, che è la classificazione dei consumi, sistematicizzazione di alcune fonti, soprattutto dal lato dell'energia, ci sono molte fonti nuove che abbiamo inglobato, c'è qualcosa che cambia nell'amministrazione pubblica, perché seguendo le raccomandazioni di Eurostat siamo passati laddove è possibile ad una registrazione di tipo accrual, accrual vuol dire una registrazione di competenza, non la registrazione di cassa e quindi per esempio tutti i rinnovi contrattuali che prima venivano conteggiati nel momento in cui venivano essenzialmente pagati, ora vengono diluiti e spalmati nel corso degli anni a cui questi rinnovi contrattuali fanno effettivamente referenza, riferimento. Trattamento statistico, abbiamo fatto qualche innovazione, c'è qualche innovazione anche nella stima dell'occupazione e in parte del sommerso, perché c'erano alcune componenti come le scorte, la variazione delle scorte che non venivano toccate dal sommerso, mentre ci è sembrato giusto includere una piccola componente di sommerso anche in questa voce del conto economico. Possiamo andare alla slide successiva. Ecco, non siamo essenzialmente gli unici, come vi avevo detto all'inizio, che hanno cambiato questi dati del 2021, c'è una politica armonizzata di revisioni che viene scortinata abbastanza profondamente da Euro, stata che cerca di armonizzare questi cambiamenti a livello dei 27 paesi dell'UE. Essenzialmente in soldoni, che cos'è che succede? Abbiamo cambiato di circa 21 miliardi all'insù, quell'1,1% di cui parlavo precedentemente, il livello del PIL del 2021, questi sono 34 miliardi nel 2022 e arriviamo a 43 miliardi nel 2023. Chiaramente, essendo il denominatore dell'indebitamento su PIL, questo provoca generalmente un miglioramento. Vedete che c'è un piccolo peggioramento nel 2021 di meno 0,2 e questo è dovuto a quello spalmarsi dei rinnovi contrattuali, per cui nel 2021 si sono accavallati due rinnovi contrattuali che hanno portato a maggiori spese e questo ha più che bilanciato l'effetto PIL, l'effetto denominatore. Quindi stiamo a meno 0,2 di indebitamento PIL come variazione rispetto al dato precedente, mentre c'è un miglioramento sostanziale nel 2022 dello 0,5% e un miglioramento più contenuto nel 2023 più 0,2%. I dati sul debito non sono stati rivisti, sicuramente questi vengono stimati dalla Banca d'Italia. Il 15 ottobre uscirà il numeratore nuovo e quindi potremo confrontarlo con il PIL nuovo. Comunque contate che per ogni decimale di indebitamento in più o in meno l'impatto sul debito PIL a parità di altre condizioni è di un punto. Quindi se vedete nel 2023 ci sono circa due punti e mezzo di debito PIL più basso. No, il debito ancora no, verrà rivisto dalla Banca d'Italia il numeratore di quel rapporto che trovate in una di quelle tavole del comunicato stampa, quindi quello è l'effetto PIL solamente, cioè l'effetto di un PIL più alto essenzialmente. Il rapporto debito PIL, sì, però occorre aspettare i dati nuovi della Banca sul debito. Come cercavo di spiegare precedentemente, non siamo soli, abbiamo rivisto nel 2021 tutti quanti e alcuni paesi stanno ancora lavorando, altri sono usciti un pochettino prima di noi, però ci aspettiamo che tutti escano per ottobre, per fine ottobre. Essenzialmente revisioni più basse ci sono state in Francia e in Svezia, mentre revisioni più alte dell'anno di benchmark di livello hanno riguardato Germania, Irlanda, Spagna, che è come l'Italia essenzialmente, Repubblica cieca e Olanda, sì, paesi basti. Insomma, sono revisioni anche per gli altri paesi di una certa entità. Un po' di spunti che trovate solamente così addombrati all'interno del comunicato stampa e che possono far comodo, ma insomma sono più cose di aritmetica, diciamo. Si è parlato molto del fatto che il PIL costante per un lungo periodo ha stagnato, tanto da non raggiungere i livelli, diciamo così, pre-crisi finanziaria del 2007-2008. Per effetto di questo innalzamento del PIL, ora nel 2013, nel 2023, scusate, siamo un'antichia più alti del 2007. Speriamo che non ci siano altre revisioni al ribasso, ma insomma spererei di no. Allora, qui trovate la spaccatura, diciamo, di quei 21 miliardi, qua partiamo dal 2020, perché appunto tutti gli anni sono un po' cambiati. 2021 21 miliardi, 2022 34 miliardi e 2023 43 miliardi e qui vedete un po' quali sono le varie componenti che hanno contribuito del conto, che hanno contribuito di più a queste variazioni sull'aggregato. C'è in particolare un contributo della PA, dell'amministrazione pubblica, e degli investimenti, questo soprattutto nel 2023. C'è anche una bella spinta all'insù, data da questa variazione delle scorte, sia sul 22 che sul 23, e questo è un po' il quadro che trovate nel prospetto 6, appunto, del comunicato. Questi sono, è un po' un confronto fra i tassi di crescita delle voci del conto economico, a sinistra quelli attuali e a destra i tassi di crescita della serie precedente. Diciamo che, in generale, anche se c'è un impatto, inutile nasconderlo, anche sui tassi di crescita è più un effetto livello, appunto, cambiamento di livello, che è quello importante e quello che interessava o preoccupava di più durante questi giorni, in cui, come sapete, ci sono delle previsioni che dovranno essere fatte sull'andamento del PIL, dell'indepidamento e del debito nei prossimi anni da parte del governo. Possiamo andare, penso, sull'ultima slide e qui trovate essenzialmente lo stesso confronto fatto sui tassi di crescita delle componenti del conto, a sinistra quelle attuali e a destra i tassi di crescita delle componenti del PIL nel 2023, che passa da 0.9 a 0.7. Io avrei finito. L'unica cosa che aggiungo è che per ulteriori dettagli sulla natura, diciamo così, di questa revisione, potete trovarli sulla nota informativa che è stata pubblicata a inizio agosto, dove c'è un po' tutta la storia, quella che ho sintetizzato, ho cercato di sintetizzare in una delle prime slide. Giovanni, ecco, allora, questa era appunto, come abbiamo visto da questa prima illustrazione, come dicevo, le novità sono piuttosto significative, perché ovviamente è significativo quello che è successo nei tre anni, in particolare successivi alla super recessione del 20. Come dire, se ci sono domande è il momento buono, prego Luca Paolazzi, poi Gianni Trovati, prego. Grazie. 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 E anche Andrea. Allora, si comincio dall'ultima, per il tax gap occorre aspettare fino a fine anno, almeno questo non è qualcosa che stimiamo noi, ma c'è tutto un calcolo che è fatto dall'Agenzia delle Entrate, stiamo in un gruppo di lavoro sulla stima del sommerso e all'interno di quel gruppo che si è recentemente costituito cercheremo di capire insieme con loro qual è l'impatto di questi dati sul nuovo tax gap. Sul super bonus abbiamo chiuso essenzialmente il cerchio, c'è stato un impatto sul 2023 sugli investimenti in costruzione in particolare, abbiamo raccordato tutte le informazioni che non avevamo potuto includere a febbraio nel corso dell'ultima stima e soprattutto le informazioni sul sisma bonus, che è una parte appunto del super bonus, quello è quell'impatto che vedete lì in quella tavola. Sulle conseguenze sul 2024 dobbiamo aspettare ancora qualche giorno, nel senso che il 5 usciremo con i nuovi dati dei settori istituzionali e trasmetteremo ad Eurostat una prima stima, questo prima del mese, sui trimestrali, ma è da quello che essenzialmente vedremo l'uscita, essenzialmente ci aspettiamo una uscita chiaramente più alta come livello, ma più bassa come dinamica sul 2024. Gli indicatori congiunturali non sono cambiati e quindi ci aspettiamo, speriamo, ma è che ci sia un effetto solamente scala e non tassi di crescita, però questo è ancora un pochettino presto. Sull'ultima domanda, non so se Susanna, cioè l'ultima che poi dovrebbe essere la prima. No, vieni qui perché se no non si sente Susanna, è la collega del servizio di finanza scientifica, Susanna Naccioni, eccola qua. Allora, le entrate tributarie fiscali sono aumentate e l'aumento l'abbiamo cotto già a marzo, a rile scorso. La revisione che c'è stata in questa occasione ha riguardato più che altro un'analisi più approfondita di quelle che sono le misure legate all'energia che hanno coinvolto anche gli oneri generali di sistema per i quali poi abbiamo avuto questa grossa revisione, anche perché a marzo-aprile non avevamo dati certi, e quindi abbiamo fatto delle estime e abbiamo sovrastimato sia le entrate che le uscite. Quindi questa revisione è semplicemente dovuta a questo. Grazie, Susanna. In collegamento Giovanni Salsano di Bloomberg, prego, accendi il microfono e prego. Mi sentite? Sì, sì. Dunque, io voglio sapere, cumulativamente sul nominale, tutta l'intera revisione, diciamo, che aumento ha comportato del piccumulato su tutti gli anni? Questa è una domanda che faccio, perché in generale il contributo all'Unione Europea è calcolato sulla base di una misura simile al PIL, rispetto al reddito interno, una misura derivata, il reddito interno netto, mi sembra, adesso non ricordo esattamente l'aggregato, ma insomma è un aggregato che li muove insieme al PIL. Sì, il reddito nazionale loro. Sì, è grosso modo, diciamo, il contributo è intorno all'1%, quindi già si potrebbe calcolare che è grosso modo quale sarà, diciamo, il conto che l'Unione Europea manderà all'Italia. Ricordiamoci che anni fa successe una cosa analoga quando si inserì l'economia illegale nel PIL e questo determinò in parte, aiutò la Brexit, in quanto Cameron ai tempi si addirò al quanto. per l'enorme conto che gli arrivò in proposito. Grazie Giovanni. Prendiamo nota anche della domanda di Mario Sensini del Corriere. Prego Mario. Grazie, buongiorno. Molto semplice. Sì, sì, si sente. Grazie. Una domanda molto semplice. Un miliardino in più che dovremmo pagare all'Unione Europea, secondo me. Forse vuoi qualcosa. Grazie Giovanni. Posso? Prego. Allora, grazie. Una domanda molto semplice. Le nuove regole europee sui conti pubblici definiscono il percorso della finanza pubblica sulla base di un nuovo aggregato che è costituito da questa spesa primaria netta. Io volevo sapere se l'Istat prima o poi sarà chiamato a in qualche modo certificare la dimensione di questo aggregato come in qualche modo oggi per gli altri indicatori fondamentali della finanza pubblica a partire da l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche. Grazie della domanda Mario. Prego. Prego, c'è una domanda qui in sala. Prego. Grazie. 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 Guardo sempre per ordine al contrario, scusate. Allora, sul debito PIL essenzialmente noi scriviamo stimato ma perché è in attesa di nuovi dati della Banca d'Italia sull'ammontare totale del debito. Quindi lei vede quel rapporto migliorato del 2,7% semplicemente per un effetto PIL che è più alto e quindi schiaccia il rapporto debito PIL e quindi quando il 15 d'ottobre penso che escono Susanna con i nuovi dati nel bollettino dove vengono messi faremo il rapporto nuovo e vedremo effettivamente di quanto è cambiato il rapporto debito PIL Allora ci sono dei cambiamenti in livello che su tutte quante le serie che possono o non possono cambiare e possono cambiare anche in direzione opposta il tasso il tasso di crescita che è una comparazione fra un anno e quello che è successo l'anno precedente c'è anche un effetto di composizione interna perché bisogna vedere tutte le varie componenti quant'è che crescono è chiaro che abbiamo cambiato numeratore e denominatore quindi questo confronto non necessariamente porta ad un tasso di crescita più alto sul deficit generalmente se lei vede il prospetto 14 l'ultima tavola del comunicato l'indebitamento netto è nel 2023 è 152 miliardi ed era 154 quindi peggiore nelle stime precedenti quindi questo è essenzialmente l'ordine di grandezza quindi un decimale sono mille e 500 più o meno cioè un miliardo e mezzo ti do la parola subito Francesca avessi detto qualcosa sì allora la revisione al ripasso del tasso di crescita che lei ha visto è nella semivolume del PIL perché in realtà la variazione che abbiamo fatto vedere in valore è a prezzi correnti e il tasso di variazione a prezzi correnti del 2023 è aumentato di un paio di decimali se mi ricordo bene o tre forse mentre c'è stata una revisione del processo di deflazione che quando abbiamo pubblicato i dati a marzo era ancora un po' uno stato embrionale a livello di informazione e quindi si è rivisto abbastanza il deflatore del PIL con quindi conseguentemente una variazione in termini di volume più bassa di quella che avevamo stimato tutte quelle variazioni che abbiamo fatto vedere dell'1,1 gli altri paesi eccetera sono variazioni nominali di livello del PIL corrente mentre il passaggio da 0,9 a 0,7 è sul PIL costante che è quello che poi guardiamo sempre essenzialmente sulla prima domanda che c'è stata effettivamente pagheremo pagheremo di più occorre fare alcuni conti e cercare di capire questa non è la prima revisione che facciamo al 2021 se ricordate bene qualche tempo fa abbiamo cambiato già il 2021 di 30 miliardi 34 quindi dovete pensare che sono cumulativamente 50 città e volevo aggiungere qualcosa riguardo questo ultimo punto del reddito nazionale che la scadenza sarà il 30 settembre dovremmo presentare ad Eurostat i dati sulla revisione del reddito nazionale del 30 settembre quindi siamo ancora in attesa di alcune ultime informazioni che ci fornirà Banca d'Italia che ci porteranno a passaggio dal prodotto interno loro dal reddito nazionale le revisioni riguarderanno quindi la cumulata di cui si diceva l'utente saranno dal 2018 fino al 2022 quindi le revisioni si cumuleranno su questo e effettivamente dovremo pagare più al bilancio comunitario per quanto riguarda l'aspetto della quarta risorsa propria del reddito nazionale lordo diciamo che quello abbiamo verificato che da un punto di vista di variazioni anche in termini assoluti abbiamo visto prima il direttore ha presentato le variazioni percentuali in termini assoluti abbiamo verificato che anche altri paesi hanno previsto di molto i dati per esempio la Germania di 45 miliardi in termini assoluti però è al doppio del nostro reddito mentre l'Olanda per esempio 20 miliardi è alla metà del nostro reddito nazionale quindi diciamo per certi versi ha una cosa che viene concordata cioè questa è un'attività che è legata anche agli aspetti al ciclo di verifica che è effetto a Eurostat nei paesi e quindi diciamo ci aspettiamo che insomma questa cosa venga diciamo è un aspetto che abbiamo già trattato e che tratteremo anche in questa occasione Comunque per completare verso il 20 ottobre usciremo effettivamente con i nuovi dati di finanza pubblica che si spera non siano sostanzialmente differenti da quelli che avete oggi questo a seguito del processo di chiarimenti diciamo così con Eurostat Eurostat inizia a fare domande specifiche su perché avete preso questo che cosa c'è dentro quest'altro super bonus è stato trattato bene insomma tutte queste cose che possono portare effettivamente ha qualche cambiamento speriamo che non ci sia e questo prende più o meno 3-4 settimane ci sono vari round di clarification come ne chiamano loro cioè di chiarimenti che appunto vengono richiesti e per il 20 usciremo con una 20-21 con una nota informativa con la conferma o meno di questi dati sull'indebitamento questo flusso di effettivamente potrebbe esserci un qualche cambiamento ma non pensiamo che sia gigantesco tanto da far cambiare le previsioni del governo fatte per 7-8 anni essenzialmente dicevo in questo flusso di revisioni e di clarification che tutti gli istituti di statistica hanno aperto con Eurostat si inserisce appunto la domanda del collega Sensini cioè questa questione della spesa del nuovo aggregato che viene monitorato della spesa noi che cosa possiamo dire attualmente su questo ma noi abbiamo diciamo così tutti gli elementi per calcolare questa spesa netta però come ce l'abbiamo noi c'è anche il MEF e quindi questo è un indicatore che trasmetteranno loro a Bruxelles e su questo indicatore appunto come sapete che è stretto parente di quello che pubblichiamo nella tavola 14 al netto degli interessi ci sono altre voci minori che devono essere tolte questo è l'indicatore principe ora vedremo se nei prossimi magari comunicati di stampa cercheremo di metterlo Susanna vieni vieni volevo solo correggere un pochino in realtà il conto consolidato della PIA che noi forniamo garantisce alcuni elementi di questo indicatore non si può costruire l'indicatore sulla base delle nostre informazioni soltanto alcune di questo tipo la spesa al netto degli interessi è sicuramente un elemento ma ci sono una serie di altre variabili che bisogna tenere in considerazione e l'indicatore è costruito dalla commissione quindi monitorato dalla commissione sicuramente alcune delle informazioni vengono ricavate dal nostro conto ok quindi diciamo che nel breve non prenderà il posto dell'avanzo primario per intenderci come oggetto di attenzione costante di aggregati di finanza pubblica che si monitora dal punto di vista della statistica ufficiale che noi pubblichiamo insomma prego approfitto proprio sul saldo primario qui c'è il dato meno 3,5% del PIL è stato rivisto o meno perché non lo trovo sul comunicato sì effettivamente sì sì si sente Susanna non lo mettiamo non ricordo a memoria la revisione però abbiamo rivisto le componenti e quindi sicuramente cosa non c'ho le non c'ho le sì si confronta questo meno 74 con il dato ecco con il allora il dato di aprile quando abbiamo fatto la notifica del delito pubblico di aprile era meno 75 miliardi 513 ora diventa meno 74 e 748 corretto quindi diciamo che il saldo migliore di all'incirco un miliardo e due sì migliore di circa un miliardo e due forse c'è un'altra domanda in collegamento da Libero Monteforte di UP Bilancio prego Libero Buongiorno a tutti buongiorno eccolo grazie a Istat per questa grazie a Istat dicevo per questa conferenza stampa una bella operazione di trasparenza molto utile per tutti i nostri utilizzatori due domande una sugli annuali guardando ai valori aggiunti concatenati quindi la parte dell'offerta del PIN vediamo che l'incremento dell'attività economica dei valori aggiunti nel 21 e nel 22 è abbastanza diffuso cioè aumenta l'industria in senso stretto aumenta le costruzioni aumenta i servizi nel 23 invece c'è una sorta di correzione al contrario una sorta di contro sto parlando delle revisioni dei valori aggiunti concatenati e quindi l'industria c'è una crescita un po' inferiore i demi servizi le costruzioni è una serie a sé perché c'è il super bonus e quindi quella è la seconda dinamica e non partiamo c'è un filo conduttore dietro questi incrementi dei valori aggiunti diffusi a diversi settori nel 21 e nel 22 che poi si mangiano in parte nel 23 prima domanda seconda domanda siccome qui da remoto non sentivamo bene le domande che sono state fatte in sala credo si è stata fatta una domanda sui trimestrali quindi sull'impatto di questi conti nei conti trimestrali che saranno rilasciati il 4 ottobre la risposta invece del dottor Savio l'abbiamo sentita e dunque un attimino di elaborazione successiva se ho capito bene lei ci diceva nei livelli ci terremo questi livelli superiori le ripercussioni nei livelli li vedremo anche nei trimestrali sulla dinamica è troppo presto per capire se meccanicamente questi conti che sono stati rivisti in dinamica al rialzo del 21 del 22 e un po' un po' al ribasso del 23 si trascina perché poi alla fine al previsore quello che interessa è il primo e il secondo trimestre del 2024 quindi si trascina nei conti trimestrali di quest'anno se ci può dare qualche intuizione un po' di più su questo anche alla luce del fatto che non avevamo sentito bene da remoto la domanda iniziale comunque grazie parto dall'ultimo sui trimestrali ho fatto un po' una sorta di previsione di quello che potrà essere o potrebbe essere l'impatto di questa revisione tenendo conto del fatto che gli indicatori trimestrali sulla base di quali stimiamo il 23 ancora perché non abbiamo informazione su quello che viene chiamato il frame SBS essenzialmente sui bilanci delle imprese quindi stiamo andando col fatturato con l'indice della produzione industriale che tutti indicatori che generalmente non vengono rivisti e che sono questi che danno la dinamica interpolante di questi blocchi annuali quindi non essendo cambiati quelli essendo cambiato solamente l'anno un pochettino più basso rispetto a prima quello che si può pensare a parità di indicatore è che il profilo venga diciamo così mantenuto e che semmai ci sia una uscita un pochettino più spinta sul 24 ma sto ragionando appunto così come potreste ragionare voi stessi essenzialmente questo intendevo dire essenzialmente ci sarà una distribuzione più o meno uguale su tutti i trimestri di un più alto o se volete di un tasso di crescita che è un pochettino più basso se c'è un filo conduttore io penso qua veramente occorrerebbe andare a vedere punto per punto a parte questi punti grossi costruzioni penso che il filo conduttore sia quello della crescita essenzialmente quando il sistema cresce relativamente poco come è successo appunto nel 2023 questa distribuzione può essere abbastanza discorde rispetto al 22 dove la crescita era sicuramente più robusta perché si usciva da questo periodo di ecatombe essenzialmente e quindi lì la crescita era quello di un sistema che beneficiava totalmente di questi accrescimenti di pilla invece sul 2023 tentennando un pochettino di più il sistema economico effettivamente possono verificarsi queste cose che Montefiore stava appuntando appunto allora io se non ci sono altre domande diciamo abbiamo credo come diceva adesso libero proiezione trasparenza diciamo che l'Istat prova a essere per statuto il più trasparente possibile per cui facciamo quello che possiamo c'è un'altra domanda di Salsa io direi proviamo a farla breve per provare a chiudere siamo insieme da un'ora e abbiamo detto tante cose prego Giovanni non si sente vabbè allora mi sentite eh sì sì grazie dunque la prima è diciamo essenzialmente se Banca d'Italia e diciamo se queste revisioni contabili avranno impatto pure sul dato del debito capolato a Banca Italia o se semplicemente quello che si aspetta per il 15 è la solida revisione che possono fare di poche di poche diciamo di scazzo a montare insomma la seconda era non ho capito se avete dato una misuga di quello di quanto aumentato comunitativamente rispetto all'ultima revisione rispetto all'ultimi dati mandati ad Eurostat per il calcolo del contributo diciamo dell'Aon Resorts delle risorse proprie dell'Unione Europea quanto è aumentato comunitativamente diciamo il PIL in tutti questi anni per avere un'idea appunto di quello che è l'impatto poi sul finanziamento dell'Unione Europea Grazie Giovanni Allora risposta uguale per due domande diverse sul debito non sappiamo effettivamente che cos'è che farà Banca Italia se ci saranno appunto delle variazioni del dato che è implicito qui all'interno del comunicato sul contributo rispondeva precedentemente la dottoressa Baldassarini che è un calcolo che dovremmo fare sul tenendo conto di tutte le revisioni che sono intercorse dall'ultima volta in cui il calcolo è stato fatto che non so quando perché non sono cose che facciamo noi dal 2018 al 2022 è chiaro che qui abbiamo una revisione corposa se sommiamo quella che avevamo già fatto la volta scorsa del 2021 in parte anche del 2022 e dal 2018 al 2020 più contenuta però non abbiamo ora contezza appunto di questa revisione complessiva io credo che abbiamo detto veramente tante cose la revisione che aspettiamo da Banca d'Italia sul debito ricordo di nuovo è nel bollettino dell'11 ottobre prossimo Banca d'Italia è coinvolta in questo esercizio di revisione anche per la compilazione della bilancia di pagamenti che è un pezzo diciamo di quadro informativo che si unisce a quello che facciamo noi ma è anche dei conti finanziari grazie quindi diciamo che è una composizione statistica molto ampia e che ha un flusso anche in questo caso appunto ha un flusso e un confronto continuo con con Eurostat davvero mi fermerei qui trovate tutto sul comunicato come al solito in questi casi l'invito è anche leggere attentamente le note metodologiche perché ci sono tante indicazioni sulle fonte e i metodi che hanno fatto la differenza tra la precedente e questa revisione naturalmente